Nicola Luque al termine di Forlifera al Pisalò 0-2, una vittoria che porta il tuo segno e sei stato tu a sbloccare la gara, un gol molto molto importante oggi Sicuramente una bella soddisfazione dopo Lumezzana che lo insegnavo è stato bello fare gol e l'abbraccio dei compagni è stato fantastico e devo solo ringraziare Guerra per il gol perché dopo il taglio bellissimo che comunque ha portato a gol, anche la visione di Simo ha amato davvero una palla perfetta Non è mai facile quando si entra dalla panchina e tu già prima del gol avevi avuto una bella occasione avevi chiuso col sinistro e poi dopo ti sei comunque rifatto trovando un diagonale vincente? Non è facile però l'importante è farsi trovare pronti perché comunque le opportunità che mi dà il mister di entrare è sempre difficile dimostrare ma l'importante è comunque entrare con decisione e dimostrare che comunque ci si può meritare il posto